un profumo che ha il nome natalizio ma che natalizio non è è un profumo delizioso che rientra nell'universo dei dolcetti aggrumati dolcetti al limone e sapete che ultimamente ne sono stati creati tantissimi questo però è un predecessore perché è un 2016 ed è stato creato dal naso di michelle almerac di cosa sto parlando sto parlando di parmoi de parfum guimauve de noël i guimauve sono i dolci che gli anglofoni chiamano marshmallow ma in realtà qui abbiamo un profumo che arriva naturalmente con il suo sacchettino in in cotone qui abbiamo un profumo che ha una immensa delicatezza e che quindi troppo o eccessivamente dolce non è è un piacevolissimo dolce con scorza d'arancia e questa parte floreale delicatissima quindi qui abbiamo sì un dolcetto agrumato ma non eccessivamente carico di zuccheri è un gourmand a tutti gli effetti è pesante stucchevole o da utilizzare durante l'inverno secondo me no secondo me è perfetto nella stagione di mezzo quindi primavera e autunno questo è il carinissimo e forse fuori periodo guimauve de noël di parlemaux de parfum